Paolo Albani qui stasera, ringrazio di essere venuto col gelo e con la macchina rotta, quindi in treno da Pistoia. Beh, è un po' difficile dire così, parlare dei libri di Paolo, compreso l'ultimo, però per parlare dell'ultimo è necessario un po' parlare di tutti gli altri. Non so bene dire cosa scrive, nel senso, sono tre libri fondamentali un po' che l'ha fatto Paolo in questi anni, ormai parecchi anni fa, e sono tre enciclopedie in sostanza, le ha pubblicate proprio Zanichelli anche, quindi fisicamente anche hanno il formato delle enciclopedie, e però dedicate a temi un po' insoliti, non so all'ordine di pubblicazione, però sono una è l'enciclopedia dei libri introvabili, un'altra è l'enciclopedia delle lingue inesistenti, e una delle scienze anomale. È il libro che presentiamo stasera, o comunque di cui parliamo stasera, è questo dizionario degli istituti anomali del mondo, ed è come se fosse la quarta enciclopedia da un certo punto di vista, comunque la quarta di questa serie. Eh, che testi sono? In maniera un po' forse maniacale, poi magari di questo ne parliamo, Paolo negli anni, diciamo, scegliendosi un tema, come ad esempio quello dei libri introvabili, raccoglie tutta una serie di notizie che non sono mai false, o del tutto inventate, ma o verissimili, o comunque, insomma, che hanno delle fonti di origine, insomma. E' l'esempio, l'enciclopedia dei libri introvabili è proprio fatto come un vero e proprio catalogo, per cui ci sono ordinati con titolo, copertina, numero di pagine, una sorta di recensione anche di quello che è il contenuto, hanno le pubblicazioni e quant'altro, però tutti di libri che non esistono, quindi non li potete trovare, appunto, in commercio, e però libri di cui si ha notizia, e molto spesso, fondamentalmente, in altri testi. E quindi un grande lettore che poi si appunta, come dire, queste piccole cose sparpagliate in altri testi, e in qualche modo li raccoglie e ne fa cataloghi. E per capirci, non so, nell'enciclopedia dei libri introvabili, c'è il secondo libro della poetica di Aristotele, per esempio, è il libro in cui si ha notizia, che si cerca, ma non c'è. E però Paolo lo cataloga come invece un libro, insomma, esistente, di cui dà i contenuti e quant'altro. E da lì una serie infinita, perché non so quanti sono, però appunto è proprio un'enciclopedia, quindi sono moltissimi. E un po' lo stesso procedimento succede nelle altre enciclopedie, quindi nelle lingue inesistenti, lingue che in qualche modo sono lingue inventate e utilizzate in alcuni romanzi, o di cui viene solo così nominata la possibile esistenza in altri testi. E anche qui sono, come dire, scientificamente catalogate, perché c'è una componente proprio di scientifica nel lavoro che fai. E così per le scienze anomale. In quest'ultimo testo si vanno a catalogare proprio, poi se vedete anche il testo, là poi ce ne sono delle coppie, insomma, proprio mettendole in ordine, dividendole per, non so, enti, associazioni, circoli, università, anche dopo vorrei anche ci reggessi qualcosa in relazione alle facoltà, tutte delle, appunto, degli enti, delle associazioni, insomma, dice anomali, in buona parte, non totalmente, ma in buona parte anche inesistenti, o almeno attualmente inesistenti, però che hanno avuto in realtà atti di fondazione più o meno reali, e di cui si è notizia, appunto, spesso in molti libri, e citi anche sempre le fonti qui dentro. Ovviamente sono cose molto, molto curiose, spesso bizzarre, sono anche dei giochi un po' letterari, come, adesso, prima non ho detto, insomma, Paolo dirige anche una rivista che si chiama Tecne, è una rivista, appunto, tutta dedicata ai giochi letterari, più o meno, che ripubblica vecchi testi dell'Oli Po, o l'Oplepo, che è la versione italiana, insomma, questo è, questo gruppo di scrittori intellettuali che amano giocare con la parola e anche unire le regole scientifiche all'utilizzo della parola, vedendo un po' chi ne viene fuori. Questa passione di Paolo in realtà poi va anche, si esplica un po' su tutti i fronti, di là, nella saletta qui in mezzo a due mansarde, ci sono poche, solo alcune immagini, alcune sue opere visive, che allo stesso modo giocano anche lì, insomma, con i nomi, con le parole, e poi, se le vedete, sono, secondo me, molto belle, e sei anche però un autore, attore di, non so come dire, di poesie sonore, anche adesso, poi non so se, questo avrei voglia di darci dimostrazione dopo, io ricordo una bellissima performance a Verona, in un circolo, insomma, molto divertente. Quindi, insomma, la parola un po' sotto tutte le sue sfumature possibili, in tutti i suoi, in tutti i suoi utilizzi. parliamo un po' di questo libro qui più nello specifico, è veramente un catalogo di cose molto molto eterogenee, diversissime, tra loro, suddivise con i rimandi anche da pagina a pagina, a seconda dei riferimenti, tra un ente e un altro, un'associazione e un'altra, eccetera, e c'è addirittura anche un testo inedito molto molto bello, di Antonio Delfino, autore di Modena, che Paolo ha scovato, per la prima volta è pubblicato qui, in parte c'è anche proprio una foto del manoscritto originale, di una parte del manoscritto, e in generale ci sono diverse immagini, spesso sono corredate almeno anche da un'immagine, queste schede, sono proprio delle schede tecniche quasi di presentazione di questi enti bizzarri, e prima di chiederti di leggere, comunque per dare un'idea, volevo un po' capire, davvero, immagino non sia partita da poco questa tua raccolta di enti, anomali, eccetera, e un po' capire da, bene da dove hai iniziato, perché c'è una marea di materiali davvero diversi, che derivano da testi di ogni tipo, insomma, e come questa ennesima mania esattamente da cosa è venuta fuori. Grazie, in effetti si tratta di una vera e propria mania, se vogliamo. Dunque, come diceva Michele, in effetti questo libro nasce come continuazione di testi che avevo fatto precedentemente, queste tre enciclopedie del bizzarro, del fantastico, dell'immaginazione, dell'inverosimile, in qualche modo, che riguardavano le lingue inventate, le lingue immaginarie, inesistenti, considerando tutti i tipi di lingue artificiali, anche quelle che servono, o avrebbero dovuto servire in qualche modo, alla comunicazione internazionale, tipo l'esperanto, queste cose artificiali, però ovviamente la mia predilezione andava soprattutto e va soprattutto a delle lingue inventate da scrittori, eccetera. Poi appunto avevo fatto questa ricerca sulle scienze anomale e qui incontriamo uno scrittore che amo moltissimo, che è Raymond Quenot. Raymond Quenot è uno scrittore francese appassionato, e non soltanto appassionato, ma è anche stato un grande matematico, che ha fondato, insieme a un altro tizio che amava giocare a scacchi con Duchamp, questo gruppo che si chiamava l'Opificio di letteratura potenziale, l'Ulipo, in cui tutta una serie di scrittori, di matematici, di scienziati, di studiosi, eccetera, si riuniva per fare una serie di esercizi di tipo letterari, basati soprattutto su un elemento che era quello che i francesi chiamano un accontrento, cioè che ci fosse una costrizione, una regola in qualche modo. Fra i partecipanti a questo gruppo c'era anche Georges Perec, e poi c'è stato anche appunto Italo Calvino, come membro straniero di questo gruppo francese. Esiste anche un gruppo italiano, di cui faccio parte anch'io, Ermanno Cavazzoni, Oddi Freddi, Sanguinetti, e d'altra gente di questo tipo. Per dirvi che cosa significa fare delle letterature, con costrizione. Georges Perec, che è uno scrittore straordinario da questo punto di vista, fece un libro che si chiama La disparition, La scomparsa, un romanzo di tipo poliziesco, in cui c'è una sorta di commissario che fra l'altro si chiama Vocal, con la K, e già questo doveva mettere in qualche modo all'avviso i critici e i lettori, un romanzo di circa 320 pagine, una cosa del genere, che fu accolto un po' in modo freddino dai critici all'inizio, ma nessuno inizialmente si accorse di un particolare elemento di questo romanzo, cioè che era stato tutto scritto senza mai usare la lettera E. La vera disparizione era il fatto che la vera scomparsa era il fatto che questo romanzo era scritto senza questa lettera. Il procedimento è un procedimento antichissimo, è di programma, cioè scrivere un testo senza usare una o più lettere che possono essere vocali o consonanti, eccetera, eccetera. Per rifarsi di questa cosa, poi Perekke scrisse Le Revenant, che è invece un romanzo tutto scritto con parole solo contenenti la lettera E. Ma perché la disparition? Perché in effetti c'era un motivo particolare che è tragico in certo modo. erano morti i genitori in campi di concentramento, quindi la parola per e mer insomma conteneva queste R e quindi per ricordare la scomparsa dei genitori Perekke aveva scritto questo romanzo. Dicevo questo perché Raymond Quenot a un certo punto negli anni 30 cominciò a raccogliere tutta la serie di volumi di libri scritti da dei personaggi strani, bizzarri, insoliti, che lui chiamò dei fuliterè, dei pazzi letterari. Oh, ma non nel senso pazzi, non nel senso clinico del termine, psichiatrico del termine, no, erano persone strambe che tiravano fuori delle teorie strampalate, che la terra fosse piatta o teorie di tipo astronomico, teorie di tipo matematico, quadratore del cerchio o cose di questo tipo, teorie di tipo linguistico, eccetera. Poi c'è una grandissima raccolta di questi pazzi letterari, di questi volumi, eccetera, camminando chilometri e chilometri fra gli scaffali della Biblioteca Nazionale di Parigi e nessun editore, Gallimard e De Noël, per esempio, vogliono pubblicare questa sua raccolta. Tant'è che poi Chennault utilizzò moltissimo di questo materiale in un romanzo non molto conosciuto che è I fili del limo, Le Sanfans du Limon, in cui, appunto, se lo leggete, c'è un preside di una facoltà che vuole scrivere un'enciclopedia, lui dice un'enciclopedia di scienze inesate, e parla di tutti questi autori, eccetera. Uno non conoscendo la storia precedente, il fatto che si tratti di tutti autori veri, appunto, raccolti, da che no? Pensa che sia tutto un fatto di fantasia, di invenzione, ah, guarda, questo scrittore che si è inventato tutti questi pazzi e queste cose demenziali, eccetera. In realtà si tratta di tutti libri, di tutti libri veri. E che no? Aveva fatto, appunto, tanto per ritornare al discorso che diceva Michele, sulle manie, sulle classificazioni, eccetera. E che no? Aveva fatto proprio tutta una classificazione di tipo pseudo-scientifico, cioè aveva distinto, appunto, linguisti, romanzieri, licenziati, fisici, matematici, eccetera. E c'è, è nata proprio tutta una sorta di letteratura sui pazzi letterari. Poi c'è stato un allievo di che no? Questo André Blavier che ha scritto un altro bellissimo libro sui pazzi letterari, anche lui un'antologia, eccetera, eccetera. Partendo da questo, sollecitato anche da questo, appunto, io ho fatto questa raccolta di scienze inesatte, anomale e improbabili. Il libro, infatti, è un omaggio poi a che no? Anche nel titolo con un giochetto di parole che non è mio, ma di una poetessa che si chiama Giulia Nicolai. il titolo del libro era Forse che no, che sembra una cosa tipo Forse che sì, Forse che no, però con scritto proprio che no come il nome del romanziere francese. Ho fatto questo libro in cui molte delle cose erano quelle ripercorse un po' da che no, però ampliando ampliando, diciamo, il panorama a tutte le scienze al limite, al confine, improbabili, eccetera. Poi è venuto, appunto, il terzo libro che è quello sui libri inesistenti, come diceva, appunto, Michele, che è una sorta, noi abbiamo voluto fare, perché l'ho fatto in collaborazione con altri amici, una sorta di vero e proprio catalogo, infatti l'abbiamo chiamato come sottotitolo catalogo ragionato di libri introvabili, quindi non che non esista, ma che è difficile da trovare. In realtà si tratta, appunto, di libri che stanno dentro altri libri, inventati anche questi qui dagli scrittori, eccetera. E anche qui c'è tutta una grande letteratura sui libri immaginari, sui libri fantastici, non so se avete letto appunto quel libro straordinario che è Gargantua e Pantagruel di Rabelais, in cui a un certo punto c'è Rabelais, che amava moltissimo anche lui le elencazioni, le liste, eccetera, c'è tutta una lunghissima lista di libri inventati con nomi strampalati tipo Il culo delle vedove o cose di questo genere, Il culo pelato delle vedove o cose di questo genere, che in realtà poi qualche studioso ci ha lavorato sopra e ha scoperto che quasi tutti questi libri erano delle parodie di libri veramente esistenti, ma Rabelais voleva prendere in giro un po' la cultura saccente del tempo, insomma, la cultura dominante, soprattutto quella ecclesiastica, oppure quella degli avvocati, insomma, delle persone susseguose, saccenti, o di questo tipo. Ecco, dicevo, c'è quindi tutta una letteratura anche in questo ambito che è molto, devo dire, coltivata, per esempio, in ambito francese, non molto in ambito italiano, cioè Il gusto per il bizzarro. C'è una rivista molto bella che usciva appunto in Francia, recentemente, qualche mese fa, è uscita un'antologia di testi di questa rivista che si chiamava non a caso Bizarre, perché c'è un gusto proprio che nasce in parte, in gran parte, secondo me, dal fatto che appunto in Francia c'è stata questa grossa esperienza appunto del surrealismo. voi sapete che surrealisti amavano moltissimo, amavano moltissimo appunto così, tutte le cose che esulavano da una costrizione di tipo razionale, quindi c'era una sorta di predilazione verso, non lo so, le cose prodotte dagli alienati, dai pazzi, i giochi di bambini, tutte le cose che spingevano alla fantasia e che insomma rompevano con gli schemi rigidi della razionalità, della ragione, pensate appunto alla scrittura automatica, quella inventata appunto e praticata dai surrealisti. Ecco, dicevo in questa rivista di Bizarre per esempio ci fu un numero tutto dedicato appunto e non a caso curato da Raimond che no proprio sui pazzi letterari che infatti poi che no per evitare che questi pazzi fossero considerati come dei dementi degli asili scusate dei manicomi disse preferì chiamarli eterocliti infatti è forse il termine più giusto. Oh quindi per farla per arrivare al dunque lavorando su questo versante che come diceva giustamente Michele quello che io prediligo più che altro è il versante diciamo del verosimile una cosa in cui non sai bene se sia vera o se sia se sia falsa che poi è come diceva un grande critico letterario Todorov e questo poi il concetto vero del fantastico il fantastico è quello che ti fa dire a un certo punto ma quest'autore ci fa o ci marcia è vero o non è vero e questo è il momento in cui c'è in questo momento di esitazione in cui uno si domanda ma la cosa sarà vera o non sarà vera i libri di cui parla Borges per esempio sono veri o sono finti sembrano sembrano veri perché poi Borges dà l'indicazione del numero delle pagine nell'autore parla del suo contenuto di questo libro eccetera quando poi invece si supera questo momento siamo già in un altro campo ecco quando cominciano a volare gli Harry Potter eccetera sappiamo benissimo che sono cose inesistenti siamo nel campo diceva Todorov del meraviglioso non è più il fantastico il fantastico resta proprio nell'ambito diciamo del verosimile di quello che ti lascia appunto perplesso e questa a me è una cosa che mi ha sempre affascinato e interessato io sono ormai vittima di tutto questo perché tutti i miei amici che mi conosce mi considerano un falsario tutto quello che io dico non è credibile perché vabbè tutti occupi di queste cose quindi non è vero eccetera in realtà poi io parlo e scrivo anche di cose che sono appunto vere esistenti come in questo repertorio degli istituti moltissimi di questi istituti sono veri sono anomali sono strani eccetera però tutti dicono vabbè l'hai fatto te quindi sappiamo che sicuramente sono tutti inventati no non sono tutti inventati alcuni sono sì certo inventati dagli scrittori eccetera altri sono stati o sono tuttora esistenti vi racconto un piccolo aneddoto a proposito di questa condizione di cui io soffro moltissimo cioè quella di non essere creduto insomma in qualsiasi cosa io dico è una cosa che si è inventato lui eccetera ho scritto una volta una sorta di aneddoti che poi ho pubblicato su una rivista che si chiama Il Caffè Illustrato fra questi aneddoti che ovviamente erano sì tutti inventati ce n'era uno in cui io dicevo che Carducci a un certo punto era un grande giocatore di briscola di scopone scientifico scusate e però tutti gli amici lo facevano vincere perché se no lui si incavolava e che aveva visto non sapete Carducci era uno un cazzereccio in questa barba prepotente eccetera 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 il Mosca uno si chiama il Mosca che lo batteva sempre allora la moglie di Carducci va da questo Mosca e gli dice guardi per favore lo faccia vincere perché lui quando perde a scopone non riesce più a scrivere poesie settimane eccetera senza scrivere poesie mi scrive uno questa cosa poi io l'ho messa su internet mi scrive uno dice caro Albani ho letto questa cosa siccome io sto scrivendo un libro sullo scopone scientifico e ho scritto appunto alla casa Carducci mi hanno detto che loro non sanno niente di questa cosa del Mosca della moglie eccetera eccetera mi può dire qualche cosa anche di fronte a queste cose tu non puoi dire vabbè ma far finta che insomma che sia la cosa sia vera ingannarle poi mi dispiaceva adesso stava scrivendo un libro sullo scopone scientifico per cui ho detto vabbè diciamogli la verità che io fra le righe gli ho detto guardi il signore adesso non mi ricordo come sia però consigli che la letteratura è tutta invenzione finzione quindi gli scrittori sono dei bugiardi per definizione eccetera eccetera anche lui poi mi scrive ecco questo per dirvi come poi la realtà supera la fantasia e quindi come io stesso sia poi stato gabbato da tutte queste pseudo invenzioni lui mi scrive dicendo no la ringrazio moltissimo della franchezza eccetera però le garantisco che Carducci era veramente un grande giocatore di scopone scientifico cioè probabilmente non è vera quella cosa appunto del Mosca eccetera e io stesso sono rimasto sorpreso perché pensavo di essermi inventato un Carducci giocatore di scopone scientifico eccetera invece no la cosa era vera ecco per dirvi un po' di questa mia angosciante situazione ok quindi lavorando su questo campo lavorando su questo terreno pazzi letterari lingue libri esistenti o cose del genere ovviamente mi sono imbattuto spesso in in invenzioni da parte di scrittori eccetera ma non solo di di istituzioni bizzarre o per istituzioni io ho messo qua sindacati associazioni agenzie club università teatri musei tutto ciò che può essere un organismo in un qualche modo qualcuno mi ha detto ma perché non ci sono le sette religiose ma perché l'esoterismo o appunto le cose di tipo religioso siamo un po' nel campo secondo me del Harry Potter cioè sono smaccatamente false voglio dire quindi non mi interessava appunto proprio perché mi interessano invece le cose che sembrano vere o che che hanno questa apparenza di realtà di fatto ecco la cosa interessante che ho trovato lavorando su questi su questo materiale anche qui c'è tutta una letteratura estremamente interessante è che il confine poi fra l'istituzione inventata dagli scrittori ovviamente come diceva Michele io ho sempre messo una fonte nelle varie voci e insomma il lettore attento come direbbe il semiologo bolognese il lettore attento se vede che l'istituzione è fatta da campanile capisce che è una cosa inventata da uno scrittore mentre ci sono altre istituzioni che io per esempio ho raccolto in un repertorio straordinario che è questo di Martin Gardner Martin Gardner è un matematico che però si è occupato per molti tempi per molto tempo anche di giochi linguistici molto spesso giochi di tipo matematico aveva una rubrica interessante su delle riviste scientifiche e americane lui ha fatto un libro che poi è stato tradotto anche in italiano su gli scienziati pazzi quelli veri cioè quelli di cui vorrei accennare brevemente anche adesso leggendovi alcune cose che hanno fatto messo in atto costituito delle fondazioni degli istituti eccetera lui se ne è occupato cose veramente che hanno dell'incredibile anche perché spesso questi personaggi si sono arricchiti facendo cose strane dei macchinari incredibili che sono riusciti poi a vendere c'è uno che aveva fatto un piccolo macchinario che doveva essere messo con dei fili applicati alla testa e grazie a questo macchinario lui riusciva a scoprire se qualcuno era malato il tipo di malattia che aveva il punto in cui questa malattia risiedeva eccetera poi lui tamburellava con le dita nella schiena e da questo tamburellamento riusciva a scoprire insomma il tipo di malattia e poi si è reso conto e poteva farlo anche attraverso la calligrafia e quindi ha analizzato degli scritti di Ege Dallampo anche di gente già morte eccetera e riusciva addirittura secondo lui a dire se uno apparteneva a un certo tipo di religione se era un mormone cristiano ebreo tutte queste cose ma la cosa incredibile è che lui è riuscito a farsi un sacco di soldi vendendo questi macchinari facendo firmare prima di venderli un contratto in cui si obbligava chi lo comprava spesso erano persone che facevano appunto delle cure mediche massaggi eccetera a non aprire questa scatola vi immaginate uno compra questa cosa però non lo deve aprire dentro la prima cosa che farei è la sfascia che ci guarda che c'è dentro e uno di questi per esempio questo di cui vi sto parlando fu beccato semplicemente per motivi fiscali come spesso è successo in America il Capone è stato arrestato non per i suoi crimini ma per motivi fiscali e questo è stato uno di questi ecco dicevo oppure un altro personaggio incredibile è questo che ha fondato fondò questa associazione per eliminare la gravità lui diceva beh bisogna fare tutta una serie di studi eccetera aveva scritto dei libri addirittura ha inventato un medicinale Pricospenemis adesso non mi ricordo come lo chiamava che appunto mise in commercio e poi siccome diceva che bisognava mandare via l'aria cattiva perché questo poteva appunto in qualche modo influenzare la gravità e allora per mandare via l'aria cattiva bisognava mettere i pavimenti in modo scivoloso declinante eccetera aveva costruito una casa con tutti questi pavimenti qua che insomma non so come faceva poi a camminare oppure era un maniaco appunto sempre per questo fatto dell'areazione tenevano le finestre aperte anche d'inverno eccetera e quindi c'era un freddo cane in questa sua casa la segretaria che doveva tamburellare sulla macchina da scrivere con così una specie di spunzoni e lui che si era costruito un cappotto con tutta una cosa di riscaldamento dentro per impedire appunto contro il freddo e anche questo appunto fece un'associazione una fondazione contro la 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 gravità oh vi dicevo si incontrano personaggi anche che sono cioè delle figure un po' strane perché questi di cui vi ho parlato adesso di cui vi ho accennato e che su cui c'è questo bel libro appunto di Gardner Gardner sono specie insomma potremmo definirli non pazzi letterari alla che no ma veri e propri ciarlatani cioè uno dei medici completamente inventati però ci sono dei personaggi tipo strani come William Reich ora non so quanti di voi conoscono William Reich ma William Reich era è stato un allievo di Freud insomma uno scienziato serio ha scritto delle dei libri anche interessanti però lui a un certo punto cominciò a ideare questa teoria dell'orgone che è una sorta di energia cosmica primordiale eccetera e poi la applicò a problemi di tipo sessuale no e allora lui aveva inventato una sorta di gabina telefonica organica in cui si raccoglievano appunto queste energie sessuali cosmiche eccetera e poi insomma questa energia poi si materializzava una sorta di luce azzurra eccetera e poi piano piano cominciò a declinare possiamo dire verso la follia perché a un certo punto disse che probabilmente esistono gli extraterrestri io stesso diceva Reich forse sono appunto il figlio di un accoppiamento fra persone di altri pianeti eccetera eccetera quindi ecco figure anche di personaggi strani che sono stati anche insomma non dei mattoidi in senso stretto o quindi qui io ho raccolto tre tipologie diciamo per tanto per restare in ambito classificatore anche se poi le classificazioni sono degli steccati labili insomma di questo tipo cioè alcuni istituti sono completamente inventati da degli scrittori ve ne vorrei leggere una che è quella che a me piace di tutti e che vorrei che effettivamente esistesse che è l'agenzia preoccupazioni e affini è un'agenzia nata con la specifica funzione di preoccuparsi per gli affari e le disgrazie degli altri come esiste in certi paesi il mestiere delle lamentatrici che sono pagate per piangere e disperarsi su un lutto altrui così esiste il mestiere di impensierirsi per le faccende e le sventure degli altri questo mestiere appunto lo esercitano gli impiegati che lavorano in questa agenzia chi ha una preoccupazione e potendo spendere non vuole sopportarne il peso si rivolge all'agenzia espone chiaramente le cause della sua preoccupazione paga una quota che varia a seconda della gravità della preoccupazione stessa e se ne va ormai è tranquillo non deve più preoccuparsi c'è chi si preoccuperà per lui di fatti l'agenzia affida il caso a qualcuno dei suoi impiegati tenendo conto naturalmente delle attitudini personali e questo si incarica di preoccuparsene per il periodo di tempo desiderato dal cliente allora un'aria preoccupata si diffonde sul volto dell'impiegato e gli sospira spesso e non manca tratto a tratto di riportarsi alla mente le ragioni della preoccupazione mormorando tra sé una concia frase come accidenti che pasticciaccio oppure come finirà questa storia e via dicendo mentre il cliente sollevato da ogni peso non ci penserà più questa qui è un'agenzia che ha inventato appunto Achille Campanile ecco ci sono quindi tutta una serie di agenzie inventate completamente dagli scrittori c'è per esempio qui l'agenzia anche per i suicidi fatta da questo scrittore francese Radichet che fra l'altro poi lui è morto veramente suicida in cui c'era tutto un prontuario per come suicidarsi quindi per i poveri si consigliava la corda perché costava poco eccetera eccetera sì ah ecco sì quella dell'avventura a che pagina è? a pagina 25 anche questa sì sì questa è la giudizia è molto diversa ecco fondata sotto forma di spa da questo dottore che è uno dei primi soci del club dei mestieri stravaganti che è questo libro poi di Chesterton sta in una certa via è nata per assecondare una sentita esigenza della vita moderna da ogni parte nella conversazione come nella letteratura si sente esprimere il desiderio che il teatro delle nostre avventure si allarghi che qualcosa sia in serbo per noi che possa aprirci strade meravigliose e più grandi chi prova un simile desiderio versa una quota annuale a questa agenzia che in cambio si impegna a circondarlo di avvenimenti strani e straordinari allora può succedere che uscendo ci si imbatta in uno spazzacammino che confusamente ci mette al corrente di un complotto contro la nostra vita che prendendo una carrozza si venga condotti a una fumeria doppio che si ricevono misteriosi telegrammi e drammatiche visite e ci si ritrovi così all'improvviso in un vortice d'avventure uno degli illustri romanzieri delle dipendenze si incarica di stendere la trama di una storia pittoresca e piena di emozioni quindi di fronte alla vita banale le abitudini le consuetudine c'è questa agenzia che invece movimenta la nostra la nostra la nostra vita vi dicevo poi ci sono oltre che queste inventate dall'iscrittore che ce n'è di straordinari esideranti divertenti eccetera ci sono quelle vere di cui vi ho dato un piccolo accenno prima in cui si tratta soprattutto appunto di malfattori di ciarlatani eccetera e poi c'è quelle diciamo al confine semivere cioè che esistono veramente mannate con intenti spesso umoristici o provocatori eccetera per esempio io faccio parte di un'associazione che si chiama che è una sezione italiana della Joseph Crabtree Foundation che è una fondazione veramente esistente nata in Inghilterra per iniziative di alcuni docenti della dell'università di Londra che si riuniscono tutti gli anni e parlano di questo personaggio Joseph Crabtree c'è una relazione ufficiale serissima eccetera in cui si parla di vari aspetti perché questo è uno che questo Crabtree è uno che ha fatto diverse cose anche lui ha inventato teorie un po' strane di slack un po' strampalate che per esempio le donne rumene hanno particolari attitudini a certe cose perché ciò deriva dal latte delle loro mucche oppure lui è stato un seguace del mesmerismo il mesmerismo era una teoria molto in voga nell'ottocento in Francia da questo mesmer che diceva che c'era uno dei flussi particolari che si potevano raccogliere e indirizzare in un certo modo insomma c'è il Crabtree poeta il Crabtree che ha conosciuto personaggi veri che ha attraversato storie avventure e paesi ogni anno viene fatta una relazione sia in Inghilterra sia in questa sezione anche italiana l'unica poi caratteristica fondamentale particolare di questo personaggio che è un personaggio completamente inesistente sono stati però fatti appunto atti ci sono dei libri manuali raccolte appunto di queste relazioni serissime fra queste quindi questa è un'istituzione vera che però ha finalità così molto divertenti insomma fra queste c'è per esempio anche non ne posso non parlare in questa sede la facoltà di scienze inutili a a Barcellona o anche questa è effettivamente esistente nel senso che c'è un rettore che l'ha istituita e che la gestisce con tutta una serie di strane cattedre e adesso ve ne leggerò alcune per esempio c'è una che a me piace moltissimo e che è quella adesso se la trovo di ah ecco quella di ingegneria speculativa l'ingegneria speculativa si occupa di opere civili completamente inutili come per esempio i ponti iso ritornanti ovvero che ritornano sempre allo stesso punto di partenza quindi pensate un ponte che parte e poi ritorna sempre allo stesso punto oppure porti per isole deserte cioè che non saranno mai raggiunte da nessuna da nessuna rotta poi ci sono materie come la cravattologia in cui si si studiano i tipi storie forme del nodo della cravatta oppure le matematiche ricreative la storia delle città che non hanno cambiato la storia delle monalità quindi una cattedra di città inutili sì e poi poi c'era anche se non sbaglio una cosa interessante era quella ah ecco quella della semantica creativa e pasticci idiomatici e c'è un personaggio anche questo vero effettivamente perché è un politico che è stato anche sindaco di Barcellona che si chiama Joan Picchi Ipon pronunciare Picchi Ipon e che era famosissimo per i suoi strafalcioni e per le sue gaffe terrificanti per esempio una volta disse egregi signori e amici più amici che signori non era una cosa proprio simpatica o per esempio al fratello del filosofo José Ortega Igasset si rivolse così lei e all'antilope di suo fratello faceva delle gaffe terrificanti ora quella delle gaffe fra l'altro è una materia estremamente interessante quella delle gaffe degli strafalcione degli errori eccetera una cosa di cui in parte mi sono anche occupato c'è per esempio uno scrittore incredibile che è un maestro di queste cose che è Ponson Duterraie il nome forse non vi dirà niente ma Ponson Duterraie è quello che ha scritto 27 o più romanzi volumi su rocambolle da cui la parola rocambolesco storia appunto avventurosa di questo personaggio che ne combinava di tutti i colori voi probabilmente sapete che molti di questi scrittori siamo appunto nell'ottocento pubblicavano i loro romanzi prima su delle su delle riviste e venivano pagati ovviamente spesso non venivano pagate in base al numero di battute di righe eccetera è famoso lo ha scritto anche Eco da qualche parte che per esempio Dumas padre spesso andava a capo perché veniva pagato a righe allora c'era la frase e tu che gli hai detto cosa? a capo vuoi ripetere? sì perché più righe c'era e più veniva pagato quindi molti dialoghi che sembravano incredibili in realtà erano studiati per guadagnare più Ponson Duterraille appunto per motivi anche economici non rileggeva assolutamente le cose che scriveva e scriveva degli strafalcioni di un umorismo involontario che secondo me è la forma più sublime dell'umorismo cioè quello che non vuol far ridere però ride perché scriveva frasi di questo tipo con una mano afferrò la ragazza con la destra prese il timone e con l'altra indicò il cielo quanto il cavolo oppure passeggiava per il giardino tranquillamente leggendo il giornale con le mani con serve dietro la schiena come fa uno oppure straordinaria anche questa a un certo punto fa ah ah disse lui in portoghese cose vabbè e cose oppure ah ecco un'altra bellissima che mi ricordo è quella che lui dove lui dice aveva le mani viscide come quelle di un serpente ora che un serpente abbia le mani e tanto più viscide non 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 lo sappiamo oh a proposito di facoltà visto che che siamo in una facoltà eh eh c'è quello della facoltà di rilevanza comparata eh sì ho un burlone che si è divertito un po' su questo piano delle facoltà è Umberto Eco che a un certo punto si è inventato dei dipartimenti e tutta una facoltà che lui ha chiamato facoltà di rilevanza comparata la cosa eh un dipartimento fra i più interessanti è quello di ossimorica voi sapete che l'ossimoro è quello di mettere insieme due parole che sono l'una il contrario dell'altra del tipo ghiaccio bollente no? Allora nel dipartimento di ossimorica ci sono eh materie di questo tipo eh aguzzate bene la mente urbanistica zigana oppure enologia musulmana oppure fonetica del film muto iconologia braille istituzioni di rivoluzione lingue franco germaniche poi che c'è? ah oceanografia tibetana non mi facciano tibetana oppure vabbè altre cose ecco di questo di questo tipo e poi vabbè c'era sì aveva fatto anche tutta una serie di altri di altri dipartimenti un po' un po' strani ma vorrei non lo so poi se 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 vogliamo sì se ci sono delle domande delle questioni io volevo ah no ecco una cosa di cui due cose volevo parlarvi per concludere fra fra le istituzioni strane bizzarre eccetera ci sono attualmente i partiti anche qui un grande inventore però burlesco molto umoristico eccetera di partiti è Pablo e Schaurren è anche che è un pittore figlio di Sebastian Matta eccetera un grafico eh e poi anche questo Gualtiero Schiaffino Gualtiero Schiaffino è un personaggio purtroppo recentemente scomparto divertente strano aveva un'agenzia pubblicitaria eccetera ma anche lui si era si era inventato tutta una serie di 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 partiti di cui aveva fatto poi anche il logo la tessera io in tasca ho appunto la tessera di questo partito personale italiano in cui c'è la tessera in cui se il segretario è l'unico iscritto a questo partito siete voi stessi quindi non c'è problemi di decisioni di maggioranze eccetera o poi Schiaffino aveva fatto questo partito del tubo con tutta una serie di slogan questo partito del tubo era adotta un politico e convincilo a smettere noi vi salderemo tra l'incudine e il martello scegliete il tubo manda un idraulico a Bruxelles questi sono tutti appunto gli slogan un partito di lotta e di scultura contro l'impaginazione al potere eccetera eccetera Antonio Delfini di cui accennava prima Michele fondò a Viareggio e scrisse un manifesto del partito comunista e conservatore era una cosa un po' anomala questa cioè molto provocatoria eccetera però con tutta una serie di punti nel suo programma a cui lui effettivamente credeva c'era non lo so l'abolizione dei trust dei monopoli riprendere alcune cose dello statuto albertino però riviste eccetera insomma tutta questa cosa doveva un po' riscombussolare la politica la politica italiana e scrisse e scrisse un libro che gli pubblicò il suo amico Guanda questo manifesto fatto nel 51 a Viareggio io mi sono domandato prendendo spunto per esempio da questo quanto spesso poi questi istituti bizzarri di cui mi sono occupato insoliti strani eccetera quanto lo siano veramente bizzarri nel senso porto un esempio prendo a pretesto una definizione che a un certo punto un grandissimo un grandissimo collezionista d'arte che era noto per il suo fiuto per scoprire grandi artisti eccetera un certo Valard disse quando vide la prima volta le damoiselle la vignone di Picasso dice questa è l'opera di un pazzo quindi lui che passava per uno con un grande fiuto eccetera prese una cappella incredibile poi Picasso è stato uno degli autori fondamentali del novecento partito comunista e conservatore diceva Delfini in modo provocatorio eccetera anni settanta un certo Berlinguer fa un discorso dicendo il partito comunista italiano deve essere comunista e conservatore guarda quindi quasi Delfini sembra involontario cioè lo potremmo prendere quasi come un precursore involontario di questa cosa ecco ci sono molte cose in questi istituti che in apparenza sembrano appunto demenziali eccetera che però forse hanno qualcosa che comunque ci fa vedere dei lati misteriosi insoliti della nostra personalità dell'umanità e quindi sono da questo punto di vista abbastanza credo interessanti un altro fondatore di partiti è stato Ashek questo scrittore ceco slovacco che fondò appunto il partito del progresso moderato nei limiti della legge e anche questa fu una sorta di provocazione che ha fatto appunto Yaroslav Ashek ora Yaroslav Ashek è quello che ha scritto il buon soldato Sveik il buon soldato Sveik è considerato una pietra miliare diciamo fra i romanzi cosiddetti dell'umorismo ed è un straordinario romanzo in cui questo personaggio strampalato a Sveik è un antimilitarista che però appunto fa la guerra che viene messo sempre praticamente un anti-eroe diciamo la figura proprio dell'anti-eroe e in questo romanzo Ashek prende in giro appunto il militarismo le gerarchie militari il potere militare la guerra insomma tutte queste cose qui in modo molto efficace e molto divertente e molto umoristico è uno di questi scrittori Ashek in cui si parte da un racconto e poi lui ne viene fuori altre mille storie divaga su su tutto divaga moltissimo insomma da una storia ne nascono mille altri episodi ed ha una vita incredibile questo Ashek è uno scrittore che ha vissuto molta della sua vita dentro le bettole a un certo punto un grande critico che appunto ha fatto dei saggi appunto su Ashek che era Angele Maria Ripellino a un certo punto ho visto scritto che lui ha frequentato più di 177 osterie non so come ha fatto Ripellino a contare tutte le osterie in cui passava insomma ha scritto ha fatto mille mestieri ha fondato delle riviste a un certo punto si è occupato e lo si trova anche nel romanzo il buon soldato Sveika una rivista sugli animali una rivista sugli animali vera anche questa in cui poi si era inventato tutte delle razze strane di animali poi ogni tanto appunto gli arrivava delle lettere di persone che volevano acquistare questo tipo di animale completamente inventato scappò in Russia in Russia poi a un certo punto si arruolò nell'armata rossa poi diventò anche commissario del popolo in una cittadina russa di questo tipo di esperienza lui ha parlato in un libro che è stato tradotto da Sellerio in italiano si sposò con una ragazza russa ritornò però poi in Cecoslovacchia lì venne accusato di bigamismo perché era già sposato anche in Cecoslovacchia ricontinuò a bere gli amici lo costringevano a scrivere un po' come qualcuno fa con Daniele Benati perché lui non voleva scrivere tutti gli dicevano no ma devi finire questo romanzo eccetera lui fondò questo partito un po' per scherzo un po' sul serio eccetera si presentò alle elezioni e ottenne 38 voti che lui dice testimoniano della poderosa crescita del partito soprattutto fra il popolo dei caffè e delle osterie anche Delfini anche Delfini si presentò alle elezioni ma non nel suo questo fantomatico partito comunista e conservatore non mi ricordo più insomma era una cosa minoritaria eccetera si presentò nella circoscrizione di Viareggio della Garfagnana sul suggerimento fra l'altro di un amico che era Pasolini e anche lui ottenne no lui ottenne un po' più di voti di Ace che il 632 o cose del genere quindi ecco vedete anche qui siamo io li chiamo semiveri insomma queste istituzioni nel senso che sono partiti che sono nati un po' appunto sulla spinta di una motivazione tipo utopistico o puramente letterario eccetera che però poi hanno avuto anche dei riscontri seppur minimali 38 voti o 630 nel caso di delfini anche nella nella realtà quindi sono insomma non proprio completamente inesistenti ma volevo concludere per non annoiarvi di più invece su una cosa che a me ha sempre affascinato moltissimo che appunto è completamente vera ma che ha qualcosa del patetico che è questo museo museo di Bambard questo Bambard è un personaggio incredibile John Bambard ha vissuto nell'ottocento è morto nel 1891 è stato in un certo periodo pensate uno dei fettori più famosi della terra e più ricchi che cosa aveva inventato Bambard? aveva inventato quelli che lui chiamava dei panorama mobili cioè lui aveva inizialmente affittato una barca scendeva lungo il Mississippi e che cosa faceva? dipingeva su dei rulli di carta avvolgibili in dimensioni reali quello che vedeva nella costa del Mississippi poi prendeva questi rulli roteanti avvolgibili e li mostrava al pubblico muovendoli e quindi il pubblico aveva come l'impressione di attraversare come lui aveva fatto in barca il Mississippi quindi praticamente lui si era inventato la prima forma di cinematografo se ci pensate bene e lui poi iniziò a presentare questa cosa questi pannelli mobili in degli spettacoli facendosi accompagnare al pianoforte da una fanciulla che poi diventò appunto sua moglie e lui diventò famosissimo andava a tutti i teatri del mondo è stato anche davanti alla regina Vittoria la famiglia regnante a un certo punto gli scrive un certo Charles Dickens che gli dice la vostra opera mi ha sommamente interessato e deliziato cioè era un uomo famosissimo e ricchissimo diceva figura patetica perché poi lui a un certo punto costruiva una sorta di museo in cui raccolse tutti questi pannelli questo museo poi successivamente venne dismesso è diventato una sorta di mercato non si seppe più niente di questi pannelli probabilmente qualcuno dice che furono tagliati e servivano da tappezzerie per le case inglesi e lui è morto completamente sconosciuto e poverissimo uno dei che è stato all'apice un pittore famosissimo cioè poi probabilmente questi appunto panorami furono tagliati e venduti come fondali di teatro o alcuni secondo altri furono fatti a brandelli utilizzati per le pareti delle case appunto in questa città americana dove lui dove lui viveva con questa storia tristissima sicuramente non ti faccio alzare senza che leggi delle altre cose perché ce ne è parecchie però se avete anche delle curiosità domande cose del genere facciamolo anche subito se no a me sono venute in mente un po' di cose che volevo chiederti no una su Delfini che in realtà quel manifesto del partito comunista e conservatore appunto pubblicato poi l'aveva anche affisso credo in giro per Modena quindi proprio una cosa vera appunto e però c'è in un c'è un libro pubblicato da Garzante adesso qualche anno fa curato da Garboli sempre che si chiama proprio così è una raccolta di scritti e sentite la manifesto per un partito conservatore comunista e lì dentro c'è una lettera che Delfini ha scritto a Mondadori dove elenca anche qui una serie di punti perché Delfini era un po' una figura anomala sicuramente comunque un personaggio bizzarro e comico sostanzialmente per il fatto che si prendeva molto spesso sul serio quando forse per noi era strano e viceversa magari non si prendeva sul serio nelle cose serie comunque sempre un po' sfasato nei registri nell'atteggiamento verso la vita e le cose che faceva lui stesso è un eterno dilettante anche delle lettere se vogliamo e in questa lettera qui lui scrive molto seriamente a modo suo seriamente a Mondadori quindi anche una figura verso la quale minimo nutriva del rispetto e a un certo punto la lettere dice ecco qui un elenco di punti e proprio seriamente dice se l'Italia vuole liberarsi dallo schifo in cui è e vuole davvero voltare pagina ecco i punti ecco cosa dovrebbe fare davvero e lì seriamente elenca dei punti dove mischia delle cose come nel manifesto proprio serie tecniche non so una riforma della modalità di elezione andando proprio nel tecnico non so delle macro aree dei voti dei candidati non so ed è il punto uno ad esempio il punto due per dire insomma subito dopo vengono dei punti mi ricordo uno lunghissimo dettagliatissimo in cui spiegava che ci bisognava istituire un obbligo per le comunità locali le parrocchie anche per cui quando c'erano alcune festività le feste in maschera in particolare una parte dei soldi che il comune o la parrocchia usava per fare queste feste andava data ai poveri della comunità che potevano liberamente scegliere per primi di che foggia farsi l'abito mascherato e quindi poi gli altri non potevano copiarglielo gli veniva fatto il vestito con i soldi della comunità loro quindi potevano recarsi alla festa e poi anche una parte di soldi andava data ai poveri però era serissimo nel dire queste cose qui e il punto dopo era di nuovo una riforma dello statuto agrario eccetera poi c'erano venivano fuori come sempre in del fine tutte le sue ossessioni che per lui erano proprio fondamentali ad esempio con le donne lui in qualche modo sfortunatissimo con le donne c'erano due o tre punti in cui proprio si accaniva sulla questione che andava punito chi faceva salire in automobile una signorina con certe modalità perché lui era invidiosissimo del fatto che all'inizio non aveva neanche l'auto dopo comunque non riusciva quasi mai a invitare qualcuno ad andare via con lui e soprattutto a via Reggio dove lui stava tutte le estate aveva anche la casa c'era questa vita mondana molto attiva e lui un po' impazziva io credo almeno insomma anche leggende di aria a vedere questa insomma via vai insomma di donne comunque è sempre celebre la figura proprio del playboy nel film quello che arriva e quindi c'erano proprio delle ammende delle condanne anche penso proprio monetariamente specifiche in questi punti qui e no e io sempre ho trovato che quello forse ancora più del manifesto era proprio un sì proprio un manifesto programmatico serissimo con dentro delle cose un po' strampalate e un'altra cosa invece volevo chiederti io non l'ho letto tutto nel senso che è proprio un'enciclopedia quindi ha poco senso leggere l'inizio anche io l'ho preso in mano ho cominciato a leggere ma poi salto c'è un indice giustamente c'è un indice una bibliografia un indice dei nomi perché è così è consultabile e ho visto che tra gli autori che hai citato c'è non ho mai capito come si chiama come si pronuncia ma Flano Brian o Brian questo autore irlandese e lui c'è qui parli dei cronache dublinesi mi pare e invece c'è un altro romanzo suo che si chiama Il terzo poliziotto che immagino conoscerai e lì dentro adesso la storia è abbastanza complicata però di base il protagonista è uno che diciamo passa la sua vita a raccogliere libri cioè vuole scrivere un trattato su una figura di un personaggio assolutamente strampalato che lui nomina esistente che ha scritto dei trattati ed è un personaggio che vede le teorie totalmente assurde tipo quella dell'aria nera o comunque sosteneva di teletrasportarsi in altri posti ovviamente sempre ma senza nessuna prova il costruire le case fare a partire dai tetti cose di questo tipo qui e faceva tutti gli esperimenti con l'acqua insomma delle cose strampalatissime selvi esatto e però anche qui dettagliatissime proprio teorie vere insomma ci sono pagine intere in questo romanzo di questo autore irlandese poi lui le riporta e hanno delle note lunghissime in cui spiega esattamente come faceva lui e non so se qua c'è qualcosa di questo selvi eh per quello immaginavo no ok e poi no invece una cosa che volevo che mi sono dimenticato di dire prima c'è un altro libro di Paolo che forse è il quinto di questi che raccoglie invece le storie dei precursori prima ne parlavi è un libricino più piccolo e dove anche qui raccoglie le storie di appunto di questi precursori cioè quelli che per primi hanno scoperto queste teorie anche qui abbastanza assurde tipo quella di seminare il metallo perché poi in qualche modo anni dopo cresce se ne raccoglie molto di più cose di questo tipo la terra piatta e robe del genere ed è un po' il quinto libro di questa serie qui anche qui dentro ci sono dei precursori però lì proprio li raccogli come quelli che hanno scoperto nelle insomma queste cose qua quindi un po' come se avessi coperto tutto lo spettro spero non abbia coperto tutto lo spettro possibile ma ci sarà un sesto almeno un ambito che ancora non hai secondo me ce l'hai almeno spero che ci sia e no e poi la cosa che dicevi prima di adesso non mi ricordo come si chiama questo istituto di cui fai parte che dedica relazioni ogni anno questo esatto e c'è anche l'analogo italiano di Learco Pignagnoli che è un personaggio assolutamente inventato non so se da Daniele Benati comunque è inventato e ci sono dei proprio periodicamente dei convegni anche in formule varie esiste il Pignagnoli ballabile che è addirittura un'orchestra di ottoni che accompagna queste cose oppure quello tascabile invece perché sono solo in tre dove appunto in queste occasioni a Verona ne abbiamo organizzato uno con Armando Cavazzoni Ugo Cornia Paolo Nori Daniele Benati e anche tu non so se hai ben preso anche tu esatto e c'è questa figura di Pignagnoli di cui è uscito un volume di le opere complete di Learco Pignagnoli pubblicate da Benati e insomma la figura di questo Pignagnoli bene o male non si capisce benissimo chi sia però è anche un precursore tra l'altro lui ha anche inventato alcune teorie strane e poi ha scritto delle opere più o meno letterarie molto molto brevi di solito la maggior parte sono brevissime c'è un romanzo incompiuto suo è un'opera teatrale bellissima adesso non ne abbiamo qui con tutti i numeri che è un calcolo lunghissimo ha fatto anche almeno un quadro nel senso che c'è la copertina di un libro vero esistente in commercio molto bello di Aldo Gianoglio altro autore emiliano che si chiama A Duke Ellington non piaceva Hitchcock ed è una raccolta di racconti sul jazz molto molto bello e ha in copertina un quadro che ha una particolarità sono degli uomini di colore seduti a un tavolo e però in pratica nella prospettiva del quadro manca una gamba non la dipinta e questo è un quadro di L'Arco Pignagnoli che ci ha riportato anche nel retro di copertina no questo solo per dire che c'è anche in Italia non si è mai costituito un ente che studia Pignagnoli almeno non mi pare che ci sia potreste farlo però ci sono proprio questi convegni con relazioni sui vari aspetti appunto la pittura di L'Arco Pignagnoli oppure la lettura in particolare delle sue opere e no sarebbe anche bello riuscire a farlo qua una volta insomma perché radunano non a caso un po' tutti questi personaggi che poi da qui sono passati insomma bene o male era lui quello che seminava ecco io non so se volete un po' già che c'è qui Paolo approfittarne una cosa interessante appunto diceva Michele di questo Pignagnoli è un personaggio incredibile su cui sono stati fatti una serie di convegni tra virgolette seri perché questo è anche un aspetto che ci preme moltissimo il primo convegno che stava fatto su questo personaggio L'Arco Pignagnoli inesistente è stato fatto fra l'altro nel Modena durante il feste della filosofia in un contesto quindi molto molto serio e noi facevamo delle relazioni molto serie appunto serie tra virgolette su questo personaggio su vari aspetti del Pignagnoli io mi ero e poi questi conveni sono stati ripetuti in altri teatri eccetera eccetera a Reggio Emilia o da altre parti anche a Napoli ho partecipato a questa cosa e tra l'altro mi sono sempre meravigliato una volta questa cosa fu fatta a Reggio Emilia un teatro molto bello eccetera nel pomeriggio a pagamento che io pensavo verranno tre gatte era completamente pieno il teatro a sentire appunto un convegno su un personaggio completamente inesistente la cosa interessante perché c'è poi in tutta questa letteratura ci sono una serie di accorgimenti potremmo dire di tecniche che non ho inventato io cioè di confondere aspetti reali con aspetti completamente inventati cioè questa cosa del Pignagnoli studioso di minerali in realtà risale a delle teorie vere completamente fasulle per i tempi del Settecento dove in Francia alcuni studiosi credevano veramente che se uno seminava del ferro lì in quel terreno sarebbe nato poi del ferro si sarebbe sviluppato del ferro come avviene per i semi normali eccetera quindi io avevo preso non ne avevo inventato io questa teoria ma ci sono eccitavo anche quei nomi lì ma per quella cosa di cui vi dicevo prima di cui soffro moltissimo tutti pensavano che questi nomi li avessi inventati io in realtà erano studiosi del Settecento francese eccetera che veramente credevano in questa cosa io poi non l'ho altro che applicato con alcune piccole modifiche eccetera al al Pignagnoli ma vi dicevo Calvino per esempio nell'elezione americana a un certo punto dice che molti dei libri di Borges che sono tutti inventati qualcuno li ha presi per libri veri e per recensioni veri di libri tant'è che appunto un altro maniacale da questo punto di vista nell'inventare i libri è Perek Perek spesso inventa dei libri dandovi la copertina l'autore il numero di pagine le note eccetera eccetera perché sembrano veramente molto molto attendibili oh tu sì dicevi di 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 delfini sì delfini appunto poi aveva fatto tutta una una sorta di voleva fare tutta una sorta di modifica della struttura dello stato italiano quasi a forma federalista istituendo di nuovo una serie di repubbliche la repubblica di Genova la repubblica di Livorno tutte queste cose qui il senato doveva essere rappresentato aveva i suoi rappresentanti di queste varie repubbliche insomma sì era molto molto dettagliato appunto il programma di di delfini tra l'altro in uno spettacolo dicevo prima a Michele e ad altri amici uno spettacolo che si era fatto qui a Modena proprio su delfini di Barbolini che ho trovato molto molto bello tutta una serie di documenti finisce con un documento sonoro molto bello che io non avevo mai sentito che è la voce di Pasolini che parla appunto di delfini io credevo che questa cosa fosse stata fatta alla radio cioè che Pasolini parlava appunto di delfini ne parlava dopo la morte di delfini in realtà appunto la figlia Giovanna mi ha detto che è la registrazione di una conversazione che Pasolini fece a Modena credo alla biblioteca una delle biblioteche la biblioteca come si chiama Panizza no adesso si chiama delfini sì sì appunto commemorando appunto delfini fu invitato appunto Pasolini e quella è la registrazione fatta da 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 in quell'occasione O'Brien sì tutti dicevi O'Brien è un altro scrittore incredibile qui c'è un'associazione degli quelli che sgualciscono i libri ed è tutta una presa in giro delle persone voi sapete ci sono tutta una serie di persone che tengono in casa i libri solo per far vedere che sono non dell'intellettuale ma che comunque leggono i libri allora c'è un'associazione fatta apposta che va nelle case per far finta che appunto il libro sia stato veramente letto e vissuto e gli sgualcisce appunto questi libri poi ci sono delle cose sempre in questo ambito dove è tutta una parodia è una insomma una satire contro le persone che vogliono apparire colte in cui c'è questa sorta appunto di impiegato di agente che è ventriloco per cui parla senza muovere cioè fa muovere le labbra alla persona incolta ma in realtà parla il ventriloco dicendo cose appunto con citazioni altissime è una persona che muove soltanto le labbra e sembra appunto che parli di cose scientifiche di libri che ovviamente non ha letto ma in realtà è questo ventriloco che parla a nome suo vi dicevo l'unico avvertimento l'unica cosa che mi sentivo a dire è quella cosa che dicevo prima in conclusione insomma che sì questi situazioni sono bizzarri ma non so fino a che punto possono essere etichettati come puri divertismani ecco io credo che dietro tutte queste cose sia quella inventata dagli scrittori sia quelli veri sia quella di ciarlatani eccetera ci sia appunto un modo di dimostrare quelli che sono così degli aspetti spesso inconfensabili della nostra personalità del nostro modo di vivere e che quindi queste bizzarrie queste stranezze che vengono fuori insomma ce le abbiamo tutti dentro pur più o meno confessabili più o meno più o meno manifeste sì grazie Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Po, quindi l'università del Po potrebbe essere organizzatrice di questo festival che noi volevamo chiamare Un Po di letteratura ed è un festival interamente ambientato sui barconi del Po che vanno, no? C'è la foce e questa cosa non volevamo farla assolutamente, cioè prendere autori della pianura e fare con loro delle letture, magari delle tappi non so bene come funzionano poi immaginavamo accordi con le compagnie di traghetti che fanno questa roba, no però fare lì sopra addirittura una o due giorni costringendo tutti a stare lì, pena la morte o li buttevamo in acqua però di fare questo festival che si chiamava Un Po di letteratura è un po' una cazzata però non l'abbiamo mai fatta e io vorrei farla come vorrei fare assolutamente questo devo dirlo a Armando Cavazzoni però prendo anche l'impegno uno dei miei sogni altri sarebbe fare un convegno vero, serio finanziato e promosso dall'Unibò sulle Arco Pignagnoli senza dire a nessuno non è che si interessano molto riuscire a trovare i fondi e fare effettivamente un convegno nella speranza che proprio lo prendano seriamente invitando anche gente da fuori quindi poi facciano il buffet, le cose, le sessioni tutta una cosa molto formale io vorrei riuscire a fare questa cosa prima o poi qui mi piacerebbe proprio un sacco e senza per forza poi svelare alla fine se non se ne sono accorti che è un personaggio inventato cioè la chiudiamo in serietà senza magari qualche anno dopo uno dice ma che cazzo però io ho proprio un'altra speranza e no l'ultima cosa invece è sulle lingue strampalate eccetera una esistente che conosco io è lo svizzero italiano cioè il ticinese e io ho degli amici che vivono lì mi hanno regalato questo libretto che esce ogni anno che si chiama lo svizionario ed è un libretto che raccoglie ogni anno aggiornandolo espressioni assolutamente non italiane non svizzere cioè un po' assurde che loro usano e non so se siete mai stati in Ticino e fanno molto ridere perché anche nel linguaggio ufficiale ad esempio capita che vai in treno e la voce dice con l'accento un po' tipo a rezzonico quello della tv svizzera dice il treno è ritardato di 15 minuti il treno no no ma è per loro non so come c'è questa cosa per cui per loro è assolutamente corretto cioè anche nella tv svizzera usano espressioni non sono sbagliate e ci sono tutta una serie di cose tipo cambiano l'uso dei verbi da loro si dice ho bocciato l'esame per esempio non sono stato bocciato e diciamo lo svizionario raccoglie tutte queste cose che una delle più assurde che mi ha capitato di vedere la prima volta che sono stato lì era al supermercato e a un certo punto nella parte della macelleria c'era questo cartello con scritto conigli in azione anche un po' spaventato che passassero delle cose chiedo agli amici ma che cosa vuol dire questa cosa e lui mi spiega che praticamente è presa dal tedesco perché mischiano un po' le lingue di action credo vuol dire promozione offerta insomma voleva dire che i conigli erano in offerta e però questa cosa mi ricordo che la vedi anche col capretto però quella era azione capretto e quindi mi erano divertito un sacco perché sono assolutamente vere per loro non fanno minimamente ridere anzi magari vanno tutti a comprarsi il capretto e il coniglio perché è scontato e per noi sono le cose buffissime e poi parlandoci ce ne è proprio tante quindi non so se conoscevi uno svizionario però procuratene uno perché è una miniera di queste cose qua sono duecento pagine di cose del genere che loro usano quotidianamente ecco lo so dirti che esiste e fanno il buon uso bene va grazie a tutti 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 già il fatto di aver scritto questi questi sì beh sì beh sì no dunque devo dire su quest'ultimo aspetto sì questo è vero perché quando le cose diventano quasi un mestiere si perde diciamo quella freschezza quell'immediatezza io a volte mi rendo conto appunto dei limiti del fatto di lavorare sul linguaggio come gioco come simulazione come ambiguità eccetera quasi da mestierante appunto partecipavo per esempio recentemente con Bucchi e altre gente a un convenio sull'umorismo cioè no era un convenio sulla creatività e io dicevo che spesso appunto mi piace molto di più la parola ricreativo che non creativo la parola creativa è molto abusata eccetera mentre ricreativo c'è quell'elemento anche di divertimento di comico di gioco eccetera che me la rende più più simpatica ma dicevo che spesso 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 diventa quasi un'abitudine quasi un fatto di di mestiere che quindi non ha più quell'elemento ricreativo o creativo faccio un esempio portavo quest'aneddoto molto semplice una volta ero appunto da Coyne a Firenze e dovevo farmi fare la balza ai pantaloni l'orlo ai pantaloni in fondo eccetera e c'era questa commessa che parlava esperta con una commessa meno esperta che aveva in mano i miei pantaloni e gli diceva guarda ricordati di scrivere sopra il foglietto il nome del sarto perché noi abbiamo quattro sarti e io gli ho detto subito a loro due facendole ridere quattro sarti in padella ma poi mi sono reso conto che tutto è una cazzata incredibile però mi sono detto perché a queste due commesse con tutto rispetto per le commesse ma perché a loro non è venuto in mente subito quattro sarti in padella e a me sì non perché io sono più creativo di loro perché ormai per me è una forma di allenamento cioè è una forma di mestiere quindi non ha più niente a che vedere con la creatività in questo hai ragione nel senso di dire che poi a forza di lavorare su certe cose eccetera diventano così abitudine diventano consuetudine diventano cose da mestierante e quindi perdono efficacia secondo me tu mi dicevi l'umorismo sull'umorismo filosofi scrittori scienziati studiosi letterati eccetera hanno cercato in qualche modo di definire nessuno mai è arrivato diciamo a una definizione convincente si sa semplicemente che c'è un quid un meccanismo che fa ridere c'è stato un commediografo russo che ha elencato 200 tipi di riso per dire quanto è complesso l'umorismo c'è il riso glaciale c'è il riso intelligente c'è il riso nervoso c'è il riso affascinante c'è il riso convincente c'è il riso empatico eccetera lui elenca tutte queste cose per dire no quante quante tipologie di riso ci possono essere che quindi come sia difficile definire questo ambito una cosa che trovo molto convincente è quella che scrisse Pirandello sull'umorismo sul fatto che a differenza della satira della comicità dell'ironia eccetera in cui c'è una sorta di una sorta come posso dire di occhio esterno o comunque di persona che si mette al di sopra degli altri e quasi in modo moralistico prende in giro gli altri eccetera come succede appunto per esempio nella satia nell'umorismo diceva Pirandello l'umorismo ha questo di particolare che c'è una sorta di identificazione in ciò che ti fa ridere lui portava l'esempio quando vedi una donna un po' anziana eccetera che si trucca per restare giovane eccetera questa cosa ti fa ridere ma ti fa ridere in quel modo in cui tu stesso ti identifichi non ti metti al di sopra e giudichi questa persona ma ti identifichi con questo tipo di comportamento quindi l'umorismo vero diciamo ha questo di particolare una certa condivisione con l'oggetto che ti fa ridere una persona seria e poi ovviamente c'è il cambiamento di ruolo una persona seriosa eccetera che a un certo punto scivola su una buccia di banana fa ridere perché perde quel ruolo di persona seria se scivola su una buccia di banana una donna incinta non ridi anzi ti preoccupi subito di dire perché non ridi in quel caso lì appunto perché non scatta questo cambiamento di ruolo dicevo a me poi la cosa che affascina più di tutti mi ha sempre affascinato più di tutti e su cui in questo video sto lavorando è l'umorismo involontario cioè quelli appunto come dicevo prima di Ponson di Terà che non vogliono far ridere ma che raggiungono dei livelli di umorismo spesso superiori e a proposito quello diceva Michele recentemente si sono accumulati moltissimi testi e libri sulle cosiddette quelle che Bartezza che ha chiamato le frasi matte cioè quelle in cui uno fa dice una cosa però le dice facendo un errore uno strafaccione spesso per sembrare colto per usare un linguaggio che non padroneggia noi tutti spesso siamo parlati dal linguaggio e non parliamo del linguaggio usiamo parole di cui poi se uno ci chiedesse il vero significato forse non lo sappiamo non ne sappiamo uno forse sbagliato improprio eccetera e queste frasi matte c'è un libro appunto di Bartezza che ha iniziato un po' questo tipo di lettatura che appunto si chiama non ne ho la più squallida idea anche qui sbagliando invece di dire pallida idea eccetera e uno scrittore che aveva raccolto tutte queste frasi appunto anche queste completamente vere mi ricordo era Ennio Flaiano Ennio Flaiano aveva fatto un elenco una sorta di grammatica dell'italiano non mi ricordo come era intitolato in cui raccoglieva tutte le frasi appunto sbagliate che lui aveva sentito e che si era annotato o perché tutto questo poi tu dicevi giustamente questa è una domanda che non vorrei sciogliere dal punto di vista personale né tantomeno psicanalitico ma perché secondo me siamo affascinati dall'insolito al bizzarro dagli errori linguistici dai tic dai giochi linguistici eccetera perché secondo me sono tutti aspetti insoliti che però ci fanno conoscere meglio la natura del linguaggio e la natura umana stessa che no diceva un giorno scopriremo che poi all'origine dell'uomo c'era una sorta di scimmia impazzita quando capiremo questo ci renderemo conto che la follia ci fa vedere che la follia quella vera lui diceva degli alienati ci fa vedere degli aspetti che sono anche dentro di noi che sono poi aspetti umani spesso misteriosi come dicevo prima inconfessabili da noi stessi eccetera ma che però fanno parte della natura umana io credo che per esempio un esempio molto banale che c'è un modo di far conoscere e di far piacere diciamo il linguaggio che è questo strumento che usiamo tutti i giorni quotidianamente attraverso il gioco perché il gioco sapere che Anna è un palindromo che si può leggere da sinistra e a detta sapere che non so Perec ha scritto un testo di 5.000 e più pagine tutto palindrome dall'inizio alla fine lo puoi rileggere dalla fine all'inizio che appunto gli antichi chiamavano tutto questo il palindromo versi del diavolo perché era una cosa diabolica stranissima tutto questo secondo me è interessante e ci fa approcciare al linguaggio in un modo molto più appunto dicevo più 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 efficace io poi mi sono avvicinato a tutte queste cose per esempio passando attraverso le esperienze dell'avanguardia storica linguaggi inventati se pensate ai linguaggi dadaisti loro facevano tutta una serie di poesie che erano puramente fonetiche in cui c'era semplicemente il suono delle parole si ritornava loro dicevano una sorta di linguaggio primitivo infantile eccetera ma che era quello più più interessante più più anche dal punto di vista delle emozioni più efficace i futuristi russi avevano inventato quella che loro chiamavano la zaum una sorta di lingua transmentale perché dicevano perché ormai il linguaggio quotidiano è monotono è consumato è desueto è fatto di ripetizioni cioè un po' quelle cose che dicevano i futuristi del linguaggio dannunziano retorico noaulico dei grandi scrittori eccetera appunto anche loro per rompere diciamo questa forma di approccio alla realtà che era il linguaggio dannunziano decadente inventarono le parole in libertà quindi sovvertendo completamente il linguaggio spezzettando dal punto di vista tipografico e mettendoci delle cose strane dei segni numerici visivi tutte queste cose inventarono loro stessi la poesia sonora insomma in cui tu devi fare che poi se ci pensate bene il suono è uno degli aspetti principali che ci colpisce in una parola io amo moltissimo alcune parole per il loro suono non tanto per il loro significato a me piace moltissimo Ezian Dio lo dico spesso ma non so nemmeno che cosa però mi piace il suono e se sentite molti scrittori spesso iniziano delle cose o sono sensibili o incuriositi proprio da un suono di una parola dal suono di una frase al di là del loro significato questo è molto importante ecco quindi io sono partito da lì dalle esperienze dadaiste futuriste eccetera per i linguaggi per esempio inventati e poi ho ampliato ho scoperto che tantissimi scrittori anche non di avanguardia si erano cimentati appunto su questo terreno il libro che ho scritto sulle lingue immaginari si chiama Aga Magera di Fura che è il titolo di una poesia completamente di parole completamente inventate scritta appunto da Tommaso Landolfi un grande manipolatore inventore dei linguaggi è stato appunto anche qui Rabelais in Rabelais trovate tutte queste cose lui ha inventato 9-10 linguaggi completamente inventati degli studiosi hanno ritrovato in questi linguaggi forse delle origini arabe eccetera ma in realtà lì c'è anche allo stato puro il divertissement non dobbiamo negare anche questo cioè che il gioco uno degli aspetti più tipici del gioco è quello sì che ti fa interagire che ti rimette in discussione che è libero no? ma la cosa la cosa principale diciamo del gioco è uno degli aspetti più interessanti del gioco è la sua completa gratuitità inutilità il gioco è fine a se stesso ha delle regole ben precise in dei contesti ben precise però è fine a se stesso per questo secondo me è straordinario il gioco in una società sempre più rivolta all'utilitarismo a un certo tipo di finalismo eccetera fare una cosa gratuitamente è inutile la trovo estremamente rincorante qualificante interessante per questo la parola assurdo va usata diciamo in questo modo io l'assurdo la considero come qualcosa fuori dalla norma fuori dalle regole prestabilite in questo senso può essere considerata assurda se tu pensi a tutta tutta la letteratura del non senso ha un senso ben preciso quello di sfuggire appunto la monotonia delle regole linguistiche e narrative codificate non senso poi a questo aspetto all'aspetto appunto della all'aspetto della vertigine che che senso ha il gioco quando noi ci adesso lo faccio un po' meno ma quando andiamo su un'altalena noi oppure facciamo un girotondo così per stordirci eccetera è solo il senso di 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 vertigine è la stessa cosa che ti dà appunto non senso di tipo di tipo letterario che vuol dire ambarabati cicco cotre civete sul comune le filastroche dei bambini niente è semplicemente il ritmo il suono il divertimento puro della sonorità una parola in libertà straordinaria anche in questo punto di vista è anche un po' tardi però insomma se non ci sono altre questioni io ne avrei mille ma la smetto e no niente ringrazio Paolo davvero per essere passato di qui no ricordo solo due cose a parte lì ci sono un po' di copie dell'ultimo libro di Paolo un po' scontate e anche poi ci sono un po' tutti i libri di questa collana molto bella che conoscete perché abbiamo presentato molti di questi libri e di là nella saletta lì in mezzo ve lo dicevo prima ci sono alcuni giochi visivi verbali non so bene come chiamare sempre di Paolo sono esposti se avete voglia di vederli e boh magari sarebbe bello fare anche più avanti una mostra anche delle tue opere visive e poi prima o poi ti incastrerò anche su una performance di poesia sonora perché ho proprio un bel ricordo al riguardo e basta quindi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti